Chiara Ferragni e Fedez, ecco i maglioni da futuri genitori Un tocco glamurante sulla genitorialità di Fedez e Chiara Ferragni, ecco i maglioni da mamma e papà che i due ragazzi hanno deciso di indossare durante la loro vacanza sulla neve I fan approvano in pieno con oltre 400.000 like Chiara Ferragni e Fedez, che maglioni da genitori super chic Su Instagram arriva un look da genitori molto particolare per Chiara Ferragni e Fedez, ecco i maglioni da mamma e papà di Leone, casual chic proprio come la capsule della Rainbow Week di Alberta Ferretti I due capi di abbigliamento sono del tutto simili a quelli della nota stilista, che adora Chiara Ferragni, come abbiamo potuto vedere dal regalo che le ha fatto per il suo trentesimo compleanno In quell'occasione, per chi non ricordasse più i diversi outfit sfoggiati dalla fidanzata di Fedez durante la trasferta veneziana, la crea scelta per festeggiare il compleanno è stata completamente vestita da Alberta Ferretti, grazie ai tipici maglioncini colorati che, al posto dei nomi della settimana, presentavano la scritta Chiara Questa volta? Diciamo che sui maglioni da genitori di Fedez e Ferragni c'è una dolcissima componente in più, ovvero il nome del loro primo genito, Leone, atteso per i premi di aprile Il rapper milanese indossa un maglione grigio con sopra scritto in azzurro Shocking Leone's Daddy, mentre la fashion blogger numero uno al mondo presenta la scritta Leone's Mummy, verde mare su rosa chiaro Che dire, come ci aspettavamo La foto fa il boom di Liche, che superano velocemente i 400 mila in poche ore, i due futuri genitori non vedono l'ora di abbracciare il loro piccolino e, nel frattempo, ingannano l'attesa mostrando tantissimi capi di abbigliamento personalizzati, sia per loro stessi che per Leone Sono già arrivate tante scarpine da ginnastica e anche magliette con il nome del piccolo, ma non solo, la casa di Chiara e Fedez si sta riempiendo di pelucchi in ogni dove Il soggetto? Leoni e leoncini di ogni tipo, incluso Simba, il re Leone ovviamente, che i due ragazzi più chiacchierati d'Italia hanno comprato in prima persona, pensando alla loro futura famiglia a tre Chiara Ferragni e Fedez, progetti per il futuro di Leone Forse non tutti se lo aspettavano, ma a giudicare dalle ecografie con nomi di medici americani mostrate da Chiara Ferragni su Instagram, potevamo immaginare che la gravidanza sarebbe stata seguita e portata a termine in USA I motivi? Sono molteplici, visto che Fedez, in recenti interviste, ha dichiarato di desiderare un po' di privacy per questo momento fondamentale della vita della sua futura famiglia, dunque Chiara Ferragni partorirà a Los Angeles Non solo, il rapper, appena finite le vacanze di Natale, si trasferirà in California con lei fino a maggio, stando alle sue parole, in modo da lasciare alla futura mamma tutto il tempo e la tranquillità necessari per occuparsi di Leone Dopo i primi mesi, quando il piccolo sarà pronto per il primo viaggio all'estero, i tre torneranno in Italia, anche perché Fedez, il 1 grado giugno 2018, è atteso a San Siro, lui e il Lunga Axe si esibiranno in un grande concerto da record, visto che il 28enne milanese diventerà l'artista italiano più giovane a esibirsi al Meazza Grazie a tutti